Ciao a tutti, finita questa giornata pessima, giornata veramente triste, veramente deprimente per quel che riguarda la situazione Emilia-Romagna, soprattutto Romagna. Ho visto diverse interviste anche di persone anziane, ho avuto un modo anche io di parlare con alcune persone anziane degli 80 anni, 85 anni, anche degli 90 anni, che hanno espresso il loro parere su questa situazione in Emilia-Romagna. Quindi io mi sento di dire basta cazzate, basta cazzate, e lo dico guardando negli occhi gli amministratori locali, tutti dal primo all'ultimo, basta cazzate. Non siamo così creduloni da credere le vostre cazzate, sì va benissimo, è venuta giù un'acqua incredibile, ne è venuta giù tanta, effettivamente è da tanto tempo che non si vede piovere così, ma è già capitato e non è capitato di vedere così tante province, così tanti comuni sott'acqua in questo modo. Quindi basta cazzate, perché l'hanno detto delle persone anziane, potrei farvi rivedere le interviste di queste persone anziane, intervistate su diverse tv locali in Emilia-Romagna, persone anziane che hanno 85-90 anni, che hanno detto noi situazioni così di merda, dai tempi della guerra non ce la ricordiamo. E sapete perché? Sapete perché c'è questa situazione di merda? Sì è piovuto tanto, il clima sta cambiando, è vero, il clima sta cambiando, ma le amministrazioni locali non fanno niente, le amministrazioni locali non puliscono i fiumi, le amministrazioni locali hanno fatto tutto tranne che quello che si deve fare. Questa è la verità, i fiumi non sono puliti, i tumbini fanno schifo, le fognature messe da panico, l'acqua non drena da nessuna parte. Non hanno fatto nulla di utile in questi anni, sono vent'anni che non puliscono i fiumi, sono vent'anni che non intervengono in modo serio per pulire i fiumi e già da diversi anni finiamo sott'acqua. La verità è quella, smettiamola cortesemente di prendere per il culo il prossimo, smettetela. Pensate, Open stesso, il fact checker Open oggi è uscito con l'Emilia-Romagna non è stato in grado di spendere 55 milioni, non l'Emilia-Romagna, Jlein e Bonaccini. La Jlein e Bonaccini non sono stati in grado di spendere 55 milioni di euro gli andati indietro allo Stato. Cazzo, prima volta nella storia che un'amministrazione regionale dà indietro i soldi a un governo perché non riesce a spenderli. Soldi che erano stati stanziati per mettere a posto i corsi d'acqua. Pensare a queste problematiche. Non. Hanno fatto un cazzo in vent'anni. In vent'anni l'amministrazione PD in Emilia-Romagna non ha fatto una minchia di utile. Quindi basta cazzate, non raccontatocele. Poi è vero, è piovuto tantissimo, fuori dalla norma, sono venuti giù sei mesi di acqua. È vero, è vero. Ma cazzo, così tanti comuni, ponti crollati, autostrade piene, tutti allagati, acqua fino ai primi piani, Bologna, Fornice, Sena, Rimini e Riccione. Ma smettetela di prenderci per il culo. Ammettetelo che non avete fatto un cazzo. Lo dicono delle persone anziane, delle quali mi fido. Io mi fido di una persona che ha 85 anni perché non ha nessun motivo per dirmi una cazzata. Ci sono delle interviste di ATV, che è una tv regionale in Emilia-Romagna, che questa persona anziana dice sono 85 anni che me su me, non ho mai visto una cosa così dalla guerra. Quindi per favore, lo dico cortesemente, lo dico alla gente che si fida ancora degli amministratori locali in Emilia-Romagna, non prendeteci per il culo. Cortesemente in questa fase smettetela di prenderci per il culo, per favore, per favore. Vi chiedo solo, per certo. Ormai la situazione è quella che è. Il danno è fatto, siamo nella merda, almeno non prendeteci per il culo. Non vi chiedo tanto, non vi chiediamo tanto. Vi chiediamo semplicemente questo, di non prendere per il culo i cittadini e magari di rassegnare le divisioni, perché avete dimostrato in questi anni di non essere in grado di gestire la nostra regione. Tutta a chiacchiere. Criminalità come non mai, sanità messa da culo. In Emilia-Romagna ve lo dico, a questo punto apro il libro. La sanità in Emilia-Romagna è messa da culo, non ci sono fondi, non ci sono risorse, i medici scappano, i medici scappano dai pronti soccorso. La sanità in Emilia-Romagna ha un buco clamoroso, è messa da panico ed è gestita dal PD. I letti dei fiumi sono messi da panico, uno schifo detrito ovunque. Ho pubblicato prima una foto in piazza Maggiore Bologna che è un tombino, un semplice tombino che mi ha mandato, un ristoratore in centro a Bologna, un amico ristoratore mi ha mandato una foto fatta da lui, quindi non è un fotomontaggio, è fatta da lui, dove c'è il tombino in piazza Maggiore Pino di merda, ma di merda di 10 anni, chissà da quanto tempo non puliscono i tombini. Il tombino è solo un esempio, non è quello che risolve il problema di tutto quello che è successo, ma un tombino più un altro tombino più altri 10 tombini più altri 50 fiumiciattoli più 20 canali, questo è il problema. Il problema è che in 20 anni non avete fatto una minchia a parte delle grandi chiacchiere, a parte a pensare alle vostre stronzate. Il PD in 20 anni ha pensato solo a delle stronzate, cioè alle cose importanti, minchia non ci pensano le cose importanti, è questo che mi fa incazzare. Cioè in due o tre giorni distrutta l'Emilia Romagna, la Romagna, cioè prima della stagione estiva, cioè voi forse non vi rendete conto del danno. E questo messaggio lo mandano anche a Meloni, che non deve gioire a dire guarda il PD che cazzo ha un fatto. No, Meloni non pensare di mandare le armi in Ucraina prima di aver messo a posto la nostra regione, perché a differenza degli altri, veniamo a Roma in 5 milioni, forse non ha capito la signora Meloni. Giorgia Meloni dimostra che tiene gli italiani, perché se non mette a posto la nostra regione immediatamente le stanze dei fondi per la nostra regione e continua a mandare armi e non dà i soldi a noi, dove veniamo a Roma in 3 milioni, in 4 milioni, forse non ha capito la Meloni. Veniamo a Roma in 4 milioni a pretendere i nostri soldi, soldi illeciti per una regione che è una delle regioni motore dell'Italia. Senza Emilia Romagna l'Italia farebbe così, come anche altre regioni, per l'amor di Dio, siano tutti bravi. Ma che la Meloni non pensi, non pensi di parlarne poi forse, poi forse. Cioè vogliamo subito della moneta, della moneta sonante, ma noi delle armi in Ucraina non ce ne frega un cazzo oggi. A noi oggi ci interessa della nostra regione Emilia Romagna, perché è messa da panico, perché parte la stagione estiva, oppure volete che sia distrutta l'Emilia Romagna perché così potete svendere le nostre spiagge alla concorrenza straniera. È quello che volete? Quindi ve lo dico onestamente, io sarò il primo che se non arrivino i fondi per la nostra regione, la Romagna, io ho tanti amici, tanti amici in Romagna e amiche, se non arrivino i soldi per la Romagna, io sarò il primo a dire andiamo a Roma in milioni, perché avete rotto il cazzo, dobbiamo pensare all'Italia. Scusate se sono scurillo ogni tanto, ma quando uno può essere un per le palle deve dirlo, è inutile fare anche i bonisti. Gesù ribaltò nel tempio tutto perché si rompe le palle. Quindi non esiste il buono, il cattivo, esiste la persona buona che quando si rompe le palle è molto peggio del cattivo, ve lo assicuro. Quindi, cara Meloni, Bonaccini ha fatto una figura con la fila di strammerda, vent'anni che non fanno una minchia a livello di fiume, a livello di territorio, una cosa indecente, vergognosa, schifosa e i risultati si vedono, sono palesi a tutti, è inutile raccontarci cazzate da qualcosa qua. Carameloni, noi vogliamo i soldi, noi vogliamo i soldi, vogliamo i soldi per ricostruire la Romagna, e attenzione non parlo di me, a me non mi viene un euro, per la Romagna, per la gente in Romagna, per quello che è successo, vogliamo i soldi per ricostruire subito tutto. Non ce ne è fotto un cazzo di andare a pensare domani all'Ucraina, oggi ci interessa di casa nostra, perché sono uno sproveduto e un cattivo padre di famiglia non penserebbe prima a casa sua ai suoi figli che agli altri. Ogni tanto mi fa, scusate, io chiedo perdono, mea colpa per le tre o quattro parolacce che mi sono scappate. Però veramente, io ve lo dico, se non dovessero arrivare i soldi, qua lo dico e non lo nego, non dovessero arrivare i soldi velocemente per risolvere i problemi di Emilia Romagna, mi farò, insieme ad altri, spero in tanti, mi farò avanti per andare a Roma i milioni di persone, per dire vogliamo i soldi per Emilia Romagna, come vorremmo i soldi per i terremotati, per l'Abruzzo, per tutte quelle regioni che sono state distrutte dal terremoto e nessuno ha fatto niente. Pensiamo prima di mandare i soldi all'estero o di mandare armi da altre parti che pensare alla nostra Italia. Ma mi avete rotto i coglioni, ma avete rotto i coglioni. Ciao a tutti, buonanotte, buonanotte e ragazzi basta chiacchiere, basta chiacchiere. Beloni, basta chiacchiere anche voi. Il PD ha fatto gran chiacchiere e i risultati li vediamo. Non fate come il PD cortesemente centrodestra, vogliamo i soldi bloccati immediatamente, i fondi per l'Ucraina e tutti i fondi destinati a delle minchiate li vogliamo noi per l'Emilia Romagna e non solo l'Emilia Romagna. Chiuso, fine, imponiamoci in questo, tiriamo fuori gli attributi. Ciao a tutti, buona serata. Buonanotte.